Ritorna a Motta di Livenza il Carnevale Mottense, 73esima edizione. Sfilata dei carri mascherati, domenica 16 e martedì 25 febbraio. E poi domenica 23 il Carnevale dei Bambini, con l'affertura dei giochi e l'animazione in Piazza Luzzati. Non mancare al 73esimo Carnevale Mottense, martedì 25 febbraio alle 14.30 in diretta televisiva su Media24 e 1 apri. 73esimo Carnevale Mottense, a Motta di Livenza. Grazie per la visione!